Bentornati tutti quanti sul canale di ShackFace, io sono sempre Selson, mentre parlo il sito da pochissime ore, il primo teaser di The Predator. Adesso lo vado subito a vedere, è la prima volta che lo vedo, quindi vediamo un po' che cosa hanno combinato. Speriamo veramente bene. Un attimo solo per spostare la mia action cam con sopra, in modo che potete vedere. Perfetto. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! La fotografia non è male, eh? Mi parli della missione. Ha visto qualcosa di insolito? Tipo un alieno, vuole dire? Ha visto qualcosa. Altro che? Sì, già. E i suoi uomini? Qualcuno o qualcosa vi attila niente? Credo che stiano tentando libri d'azione. Si potenziano ad ogni pianeta che visitano. Dobbiamo sapere se costituite una minaccia. Siamo assassati. Sì, il punto non è costituire una minaccia. Sì, il punto non è costituire una minaccia. È un teaser, quindi non è che l'ho mostrato gran che è. Si sa, però abbiamo più o meno capito come sarà la trama. Questo bambino trova quello che è un antepatto, The Predator, e richiama l'astronave che viene sulla Terra. E questo inizia dalla cassa per recuperare appunto il manufatto. Ragazzi. Allora, è un teaser, però devo dire veramente che sono rimasto alibito. È fatto benissimo. È un trailer montato bene. Tra l'altro, porca puttana, finalmente, delle creature aliene che non sono fatte con la computer grafica. Oh. Io speravo infatti che non avessero inserito la computer grafica. Sì, ma solo per la nave. Se vedete l'astronave è fatta con la CGI, però... Però il Predator, se lo vedete bene nell'inquadratura, e come al solito col costume, questa cosa mi fa veramente impassire. Finalmente. Poi, allora, il film... Sembra un riscontro nuovo, vero? L'ha detto, usano antepatti genetici. Era la rassa dei Predator geneticamente modificata. Quindi diciamo che saranno dei Predator diversi da come li conosciamo. Infatti mi sembrano anche più violenti. Vedo anche delle scene abbastanza sassanguinolente. Questo mi piace perché non più di Predator. Lo voglio vedere. Sembra una tamarrata anche. Nel senso che se questa squadra speciale combatterà contro il Predator... Non sappiamo ancora quanti se ne saranno di Predator. Forse sarà uno, forse saranno cinque. Non si sembrano capire. Direi che comunque come input per una base di una nuova triluzione... Sia una nuova saga di Predator sicuramente si sta. Perché So Black ha detto che questo è un capitolo che sarà collegato dopo gli eventi di Predator 2. Però... Ci ha invitato un paio di anni dopo Predator 2. Però è anche vero che ha detto che questo sarà un nuovo risponto per la saga di Predator. Quindi qualcosa di nuovo. Finalmente, cazzo. Non hanno detto ancora la data ufficiale. Quindi credo che sia presto. Aspettiamoci un secondo trailer quest'estate, allora. Il rilasso dell'auto americana è il 14 settembre. Non so che non sarà questa qui italiana. Penso uguale o più o più o meno di meno. Che dire ragazzi, il trailer mi è piaciuto. Fattemi un attimo rivedere il Predator che l'avevo inquadrato qui in un'angolazione. Ecco, questo è l'attore che ha interpretato il cattivo in Logan. Quindi, che a me non era dispiaciuto. Però diciamo che là era stato un cattivo superficiale, secondario, un cassatore di mutanti. Qua siamo veramente il protagonista del film. Questa cosa mi fa veramente impassire. Poi abbiamo Olivia Moon, che era la mutante. Lei è la mutante che abbiamo visto in X-Men Apocalypse, della Marvel. Quindi diciamo che tutti e due i protagonisti principali hanno lavorato per un film della Marvel. Quindi, Marvel Force, Logan e i mutanti. Quindi, mi piace l'idea. Vediamo un po' cosa hanno combinato di bello. Qui tutto lo stesso da Sackface. Scrivetevi al canale, commentate e lasciate un bel like. Al prossimo video, Rex. Ciao a tutti.